I volontari della cooperativa Tre Ponti guidati da Gino Bartolucci sono pronti a tornare per la festa della Crescia Matta da venerdì 8 a domenica 9 luglio con un format di sicuro successo. Nata 32 anni fa ed evoluta nel tempo, la manifestazione che è organizzata dalla cooperativa Tre Ponti in collaborazione con la polisportiva Tre Ponti è diventata un punto di riferimento per numerosi visitatori provenienti anche da fuori regione. Anche quest'anno la cooperativa si allargherà per ospitare la manifestazione svalicando nel campo vicino così da creare un'area di circa 7.000 metri quadrati. Tre Ponti, la piccola realtà, dicevo 32esima edizione, naturalmente è rimasta la festa più vecchia, gli anni sono passati quando abbiamo incominciato questo habitat era piccolissimo, oggi abbiamo dovuto prendere la terra del contadino perché naturalmente per accontentare la tanta gente che oramai conosce la nostra Crescia Matta. La festa aprirà i battenti intorno alle 18 di venerdì quando gli stand gastronomici inizieranno a sfornare le prime Cresce Matta e pizze a rosmarino fatte seguendo tutti i passaggi della tradizione contadina di una volta. I cuochi della cooperativa sono pronti a sfornarne 4.000, quelle necessarie a sfamare i visitatori previsti. Alle 21 poi via alle danze con l'orchestra Grande Vento che intratterrà gli ospiti con un concerto a base di liscio. Stabato sera abbiamo Ioselito, una bella orchestra qui locale perché praticamente poi per finire domenica con Mattia Diamantini alle ore 20 con la sua scuola di danza naturalmente e poi alle 21 con la grande orchestra locale di Mario Riccardi. Quest'anno abbiamo una novità, naturalmente già in tv così la gente viene preparata, non sarà più un ingresso offerta, ci sarà un piccolo biglietto, i bambini non pagheranno niente, gli adulti pagano 2,50 euro, significa che se viene una coppia con 5 euro passa una serata divertente. Però è un segnale che vogliamo dare perché purtroppo queste manifestazioni, gli sponsor cominciano a essere, noi abbiamo sempre la nostra BCC che è la quadratura importante, però gli sponsor sono sempre più difficoltà. Gli eventi della cooperativa però non terminano qui, si prosegue la prossima settimana? Sì all'arena, lunedì il GAV, il dialettale di tutti i lunedì, poi giovedì e venerdì aggregato alla festa della Cresciamatta, avremo giovedì Gigi Iberta per i balli di gruppo, per gli amanti di balli di gruppo e venerdì la chicca, io la chiamo la chicca perché è la settima edizione di concorso di Acrepapelle e Barzellette, il Sangostanzo Show come presentatori la fanno da padrona, Bicio come ospite della SAI l'ultima e tanti concorrenti quest'anno nuovi perché abbiamo pensato di, perché tutti dicevano cambiate i concorrenti, sono sempre quelli, allora quest'anno dei 9-10 concorrenti, solo 2 saranno gli anziani, 8 concorrenti nuovi che vengono a cimentarsi con le loro barzellette.